Ciao Retsuko. Ciao Fendeko. Pensa che sono già stanca? Prima ho incontrato Tsunoda. Tsunoda? A me quella non piace. Anche io non la sopporto. Ma ho cominciato a seguire il suo account e ho capito il segreto del suo successo. La ciclicità. Ciclicità? Delle foto che pubblica sui social come se fosse una diva. Ecco, guarda. Selfie dolce latte arte. Selfie dolce latte arte. Selfie dolce selfie dolce selfie selfie gambe. Esattamente al ritmo di uno ogni 13 giorni mette una foto delle gambe. Te lo ripeto. Selfie dolce latte arte. Basta così. Qui non è la bottiglia che vuole mostrare, ma le sue cosce. Mi segui? Ma anche sabato ho pubblicato una foto delle sue gambe tre giorni prima della fine della ciclicità. Immagino che volesse che un uomo in particolare le ammirasse. Forse uno che ha incontrato al rinfresco di venerdì scorso.